No, non so, mi dica, tutto a posto? Ok, qualcuno ha detto non ho avuto tempo perché ero sempre in giro a guardare quel che è successo, non cerco scuse, ok, era vero che ero anche sempre abbastanza sempre in giro, però non cerco scuse, ok, boh, diciamolo, alla scuola di Trent se l'ha fatto o no, alla scuola di Avio se l'ha fatto o no, le tante, le tante, ne la si è inventata noi una mattina, no, non che la favo più a lavorare in queste condizioni qua, arriva questi qua e va so col chissà cosa succede, arrivano i barbari, ok, arrivano i barbari, no, siamo gente con la testa sulle spalle, con l'umiltà e con i paper terra, ok, arriva questi chi e tenti che chissà cosa succede, chissà cosa succede, se ti vai a parlare con l'imprenditore non ti domanda di diminuire che le tasse, ah, magari ti domanda anche a quello, ok, qui non lo trova uno che mi dica che non la va bene, uno, uno per strada che mi dica che non la va bene non lo trova, e vabbè, insomma, mi ha sempre fatto così, bravi, voglio dire, qual è il problema, sicuro che basta una legge, ok, avevamo commissaria ai sindaci, fino a qualche settimana fa, magari, se in chi fintà, mi permetto di dire, bisogna pensare che un attimo prima, non glielo sottomano, non mi ricordo cosa scrive lì, riteniamo che avevamo perso un po' di tempo, ok, tra Mori e Roveredo, perché se ti fai subito, ti puoi partire, se no, ti tocca aspettare, ve l'ho appena dito, ve l'ho appena dito, ok, non c'è nessuno che ne c'hanno per dirne firma o cosa succede, chissà cosa, ok, non do parlare abbastanza, insomma, cioè, non do parlare dei re anni dell'orso del lupo, ok, sarà un cavera e questo lo vedremo, lo dirà il futuro, però, un po' di, un po' di, un po' di, ah che bello, tanto adesso governe voi, tanto non che riuscì, chissà che bello, no, 5 orsi che gira per il Trentino, adesso non voglio dirtela tutta, perché, se no, veniamo a guardare chi che era in giunta negli ultimi quindesani in Trentino, ok, no, se voglio dirla tutta, la disen tutta, ok, boh, ah boh, ok, spero di non essermi capito male, però magari capi male, mi non la penso così, però mi fermo lì, mi non voglio neanche domandare niente, grazie, volevo appunto parlare di sta roba qua, perché fare l'artesana a Trent è diverso che farlo a Sagrom Miss, ok, mi, devo dire, non so, o i ventuti da mi, o non lo so cosa succeda, ecco, io francamente, a parte quelli sul giornale che, molto spesso io è sempre quei, molto spesso io è sempre quei, molto spesso io è sempre quei, che sia alle 7 della mattina, che sia alle 8 di sera, non mi interessa niente, ok, ok, anche perché, grazie a me, talmente pochi che farei essere in pressa a decidere, ok, sì, se ti giri il territorio non ti stai negli uffici, questo è vero, questo è vero, perché non è che, perché te vai là, te gai le risposte, ma se siete seri nell'ufficio, le pezzo ancora, ok, perché star lì a contarsela, star lì a contarsela non fa parte del nostro DNA, ok, noi siamo fatti così, può piacere, può non piacere, siamo un po', sì, forse le vera, siamo un po' popolani, ok, può piacere, può non piacere, questi siamo, il futuro dirà se abbiamo fatto bene o se abbiamo fatto male, ci fermiamo qua, grazie.